Paolo di Game Up, uno dei sponsor principali di questa bella kermesse svolta sia al Palabianchini, le tue sensazioni? E' stata un'ottima organizzazione, è stato anche un bellissimo evento e siamo molto contenti di essere stati sponsor di questo evento organizzato da voi. Che impressioni hai avuto sul livello proprio tecnico, a livello di questi giocatori di FIFA, che impressioni ti hanno dato? Sono stati molto tranquilli, mi aspettavo molto più casino e tra l'altro devo dire anche un'ottima organizzazione per quanto riguarda le postazioni e l'utilizzo delle varie attrezzature, sono attrezzati molto bene. Quindi è un rinno per le prossime situazioni, per le prossime organizzazioni? Beh sì, certamente, devo dire sono rimasto molto colpito, noi continueremo a sponsorizzarvi quando ci sarà possibile, se ce ne darete la possibilità, siamo rimasti molto soddisfatti. Grazie per la partecipazione. Di niente, grazie a voi, buona serata. Grazie. 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 Grazie.